No Gasby Non ho giocato per Non ho giocato per un bel po' E se la vinco La vinco divisa in due Perché Ci sarà la cena di mezzo Ma che cazzo Ma c'è un po' poca luce o sbaglio? Sono io? Poseidone Cioè rendetevi conto Non mi ricordo come lo dovevo chiamare Poseidone 19 O 20 Vedete che non so se Non so se ho il personaggio scorso Ah Poseidone 17 Quindi 18 19 19 Poseidone 19 Sium Sesso Femmina Non è vero Sesso Maschio Classe Ladro Dono Bomba incendiare oscura Spalle muscolose Dizena Selvaggi E argentei Ecco qua Ciao phantom Gasby però senza sub Non ti si può vedere Cioè con tutte le sub gift Che hanno fatto in questi giorni Non te ne è arrivata neanche una Che sfiga Ciao muni Buon pomeriggio Come stai? Bellissima Sium Sium di un Sium di un Pog di un Pog champ E no Allora Intanto Per quello che è successo L'altra sera in live Do qualche informazione Per le persone che non sono già sul telegram e discord E non sanno queste cose Perché comunque ne parlo di solito Quando sono off stream Chiacchierò un pochino con voi Ehm Mia madre è caduta Ok Ehm Mia madre è sulla sessantina Diciamo no? Credo che siano sessantuno Sessantadue Adesso non mi ricordo Lo usiamo per fare il bargnolino Che non Forse in poche persone sanno che cos'è il bargnolino Però comunque Ehm Un liquore Ehm Un liquore ad infusione con una bacca Ehm E quindi niente Che cosa è successo ragazzi? Praticamente È caduta Mentre cercava di tirare fuori la roba dalla lavatrice Perché voleva stendere Quindi che cosa è successo? Praticamente voleva scavalcare Questo vaso Che era all'interno di una scatola Ehm Ovviamente la scatola era aperta Ehm E non è riuscito a scavalcarlo Ok? Non è riuscito a scavalcarlo perché che cosa è successo? Ha fatto passare un piede dall'altra parte di questa scatola Poi ha fatto passare l'altro E mentre stava facendo passare l'altro Quindi quando era praticamente già dall'altra parte Una delle due ciabatte è scivolata Sul pavimento Quindi è caduta all'indietro E lei ha provato ad aggrapparsi al muro E ovviamente il muro sai Non ha tanti appigli Essendo fatto di piastrelle in una lavanderia Ehm Ha provato ad appigliarsi al muro E ovviamente non c'è riuscita Ok? Quindi che cosa è successo? Ehm È caduta all'indietro Ed è caduta con La parte sinistra delle costole Diciamo Sopra a Ehm La parte sinistra? La parte destra Delle costole Sopra questo vaso Quindi sopra al tappo del vaso Che praticamente Uno di quei vasi lì è fatto così E poi c'è tipo L'ampolla Diciamo no? Ok Ehm Ovviamente tappo rinforzato in metallo Ehm E vetro Cos'è successo? Praticamente niente Si è fatto a un male della madonna Il vaso non si è rotto Ehm E tipo Si è messa a urlare Perché Probabilmente stava molto male Ed era anche andata Piuttosto tanto nel panico Ehm E mi ha chiamato Io subito non ho sentito Cioè in realtà ho sentito Ma credevo che ce l'avesse con un gatto Tipo credevo di aver sentito Un vai giù Che di solito è quello che dice Quando Cerca di far scendere i gatti Dalle credenze Ehm Quindi ho sentito la prima volta Ho detto No dai non starà chiamando me Poi Gli ho chiesto Se mi stava chiamando Così in live proprio Si è sentito Ma Ma quindi E E tipo mi ha Mi ha chiamato un'altra volta Allora mi sono preoccupato Perché mi stava chiamando In modo brutto Allora niente Sono uscito dalla camera Mi sono trovato mia madre Stesa per terra Praticamente Un po' appoggiata al muro Un po' no Che si teneva le costole E Ehm Ehm Il che Non era la prima volta Che mi succedeva Non con mia madre Ma di solito Succedeva con mio nonno E quindi che cosa ho fatto Niente Ho cercato di calmarla un pochino Perché tipo Aveva gli occhi chiusi Non capiva che cosa stava dicendo Diceva puttanate Perché era In In panico totale No Allora niente L'ho un attimo Tranquillizzata E E poi niente L'ho dovuta tirare su E l'ho portata a letto Ehm E niente A letto Ho visto che cosa Che cosa si era fatta E mi ha raccontato un pochino Che cosa era successo E ci aveva proprio il segno Del tappo sulla schiena Cioè nel senso Era rimasto stampato Il segno Come livido Sulla schiena Allora mi sono un attimo Preoccupato Ho detto Vabbè Ma Si dovrà andare all'ospedale E si andrà all'ospedale Ehm E niente Il giorno dopo comunque Io non credevo che si fosse rotta niente Perché comunque riusceva Ad alzare E abbassare le braccia Senza problemi Gli faceva un po' male Quando respirava E Capite che Sembrava anche piuttosto normale Dopo una botta del genere Ehm Il giorno dopo Mio fratello L'ha accompagnata A A fare una lastra Pagamento Perché giustamente No Durante il Il covid Piuttosto che andare in ospedale Andiamo a pagare le lastre Quindi niente Abbiamo pagato le lastre E E niente Aveva due costole rotte La decima e undicesima costola Fratturata E non tipo micro fratture Erano proprio rotte Non scomposte Fortunatamente Perché sapete Le costole sono scomposte Non va molto bene Sono un po' di organi Ehm Quindi fortunatamente È andata anche relativamente bene Ehm L'unica cosa Che adesso È per due settimane A letto E Con due costole rotte E l'altra sera Ha avuto il singhiozzo Ciao Miral Grazie mille dei centobittini Ehm E l'altra sera Ha avuto il singhiozzo E io vi posso Posso solamente immaginare Io da culo Mi hanno appena tolto Un dente del giudizio Oh Tanta roba Dark Sei Ti hanno drogato un po' Spero di sì Ehm E quindi niente Ehm Ha avuto il singhiozzo Io posso solo immaginare Che male tremendo Deve aver provato Con due costole rotte E il singhiozzo Immaginatevelo anche voi Ogni due secondi Contrazioni del muscolo E dell'addome Deve essere stato molto divertente E E quindi niente ragazzi Io in queste settimane Probabilmente sarò anche un po' impegnato Da quel punto di vista lì Unico momento della mia vita In cui mi stavo prendendo un pochino di svago Per fare robe E succedono altre robe Giustamente no? Quindi niente Sono un po' stressato Perché adesso voglio fare un po' tutto Adesso voglio avere un po' la mia libertà Di fare le cose Voglio riuscire a lavorare bene E devo anche E voglio anche Aiutare mamma Perché altrimenti Altrimenti non andiamo da nessuna parte E Sì esatto Dark Mia madre è caduta su un vaso di vetro E si è rotta due costole E Dennis Bluk Benvenuto nella regione Grazie mille Sono gentilissimo E Quindi niente Mi dispiace un po' Per la mia assenza Anche quando sono Off stream Quando non sto effettivamente Lavorando sul mio canale Però Dovete un attimo capirmi L'importante è che si cerchi di riprendersi Andare a riposo evitando qualsiasi sforzo Riuscirai a fare tutto Sia lavoro Sia aiutare tua mamma Se fossero solo quelle due cose lì da fare Sì Ti darei ragione Ma In questo periodo ho anche Ricominciato un pochino ad uscire Mi sono preso qualche libertà Nonostante il covid Dopo due anni che Che sono stato letteralmente Tutti i giorni a casa Ho detto Va bene dai Adesso mollo un pochino Perché Sono stati due anni di Lavoro ininterrotto Al computer E Ho pensato che forse Forse Era il caso Di darsi un pochino Di libertà E In questo lavoro In realtà io non potrei Non potrei Veramente Perché I risultati che abbiamo avuto Fino ad ora Ragazzi Se ne possono andare Molto molto velocemente Molto velocemente Sono un po' preoccupato Per la quantità di spettatori Adesso Cioè per farvi capire Sono un po' Dipendente Dai numeri Ovviamente Ma È perché Proprio perché In questo periodo Stava andando bene Ogni tanto Un po' di relax Ci vuole Grazie pomodoro Stava andando bene Vado bene anche adesso C'è il pomodoro Che sta facendo la sub Quindi va sicuramente bene E Ragazzi Non sapete da quant'è Che io punto alla partner E tutti gli sforzi E sacrifici Che ho fatto Per puntare a questa Cazzo di partner E quindi Mi dispiacerebbe Se la vita Ancora una volta Mi Infilasse un dito nel culo E mi chiedesse Se mi piace Grazie dei sette mesi Pomodoro Veramente Gentilissimo Grazie pomo Un bacione Goditi gli stemmi Le motte La visione senza pubblicità Mi fa davvero piacere Perché in questo periodo Come stavo dicendo Sono successe un po' di robe Un po' assurde Prova ad uscire le tette Si può fare Grazie pomo È lo stesso stemma Dello scorso mese Mi dispiace Ma Fino ai nove mesi Non ne avrai uno diverso Ciao Jack Comunque grazie Delle belle parole Fabio Hai delle belle mani Mi dicono di sì Però Lo so Giudica tu Ha dei bei piedi Only fans di mani È una cosa? Esiste? Non mi scappi Lucertola di merda E dai Spostati di lì Ma Vi sembra ragazzi? Ti rendete conto Di che cosa sto facendo? Cosa sono obbligato a fare io Con questa puttana? Io lo vorrei Le mani maschili Sono stupende Interessante opinione Muni Only feet No dei bei piedi Gatsby Ma sei Esatto Ci capiamo Che è sto messaggio? Ma stai zitto E licchiamo le dita dei piedi Ma è perfetto È perfetto Dai Extreme Elements Ha capito tutto Non lo so ragazzi Devo comprare un po' di anelli Secondo me Con gli anelli Abbellirei il tutto Quando vuoi Ciao Torb Fox Come va? Oh Come one straight glorie Ciao bene lei Stressato Stanco Ho appena fatto In totale non so quanti chilometri di bici Credo una ventina Forse anche di più Dopo due anni che non la toccavo Mi sento bene Mi sento bene Mi sentirò molto peggio stasera Prima di andare a letto Quando avrò i crampi e le gambe Ma È giusto anche rimettersi un pochino in forma E da lunedì ho intenzione anche di riprendere A fare i miei esercizi a casa Non è partito il timer Sì sì è partito è partito Solo che non l'ho fatto vedere Scusatemi Nuova canzone dei chi Scrooge Ma ragazzi dai Siete troppo gentili Cosa state facendo Comunque ciao Manu Scrooge grazie davvero Due mesi Stonks Ancora GG per Per Bloodborne Ragazzi seguite Scrooge Non so se fai ancora Live Ha intenzione di fare altre robine Ma seguite Scrooge Perché è veramente Veramente bravo E ai tornei Se l'è cavata Veramente bravo Beh bravo Veramente bravo Se l'è cavata Se l'è cavata Veramente bene Quindi Ah 21 Pilots Sta per top Ehm Non li ho mai chiamati top Comunque no No Non sono così accanito Bob Sto Io ascolto Un po' di tutto Ci sto ancora provando Quella no Sì lo so Scrooge Lo so lo so Grazie Muni Abbiamo avuto qualche problema tecnico Quando Quando cercavamo di Di farti vedere Durante il torneo Perché Io ti avevo segnato Con solo un trattino basso E non trovavo Molto account Ovviamente E quindi è stato Molto divertente Grazie Comunque Scrooge Mua Grazie dei due mesi Goditi lo stemma nuovo Ehm Con la spadina Spezzata Elettrificata Ehm L'emote E la visione senza pubblicità Grazie davvero Grazie di supportare il canale Nemmeno io Ma non avevo Molto sbatti Di scrivere Potevi scrivere Tipo Hai sentito La nuova canzone Loro Avrei capito Uguale Marco puzza E' vero Amos E' verissimo Dopo Dopo aver fatto Chilometri di bicicletta Puzzo un sacco No vabbè Non puzzo così tanto Solo un po' Un po' di sudore Credo che ci stia anche No no ma è giusto così Muni Io di solito dico Amos merda Quindi insomma Mi ripaga un po' Con la stessa moneta Prima parte di questa run Colpisci le cose Cosa cazzo succede? Fabio Ma stai fermo Ma cosa fai? Lascia le fare a quel coglione di Luigi queste cose Ciao Mark Ciao Mark Ciao Mark Come stai? Come stai? Come stai? Scusa 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 Ti 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 voglio 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 Bene 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 Minore tre minore tre minore tre Tre minore Grazie Magino del bittino Non ho capito che cosa ti ha preso oggi Ma Va bene Considero un altro piccolo supporto per questo periodo più duro Grazie Fabio Ma Poi mi sento ancora più in colpa Perché Non dovrei dirvi queste cose Dovrei portare solamente positività in stream Quindi Lo considererò una sub gift per la bellezza dei miei piedi Comunque grazie Fabio Grazie davvero Grazie di aver giftato una sub Al signor Gasby Che Dicevo prima Che non sopportavo il fatto di non vederlo Cioè di vederlo senza sub Quindi Grazie davvero tanto 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 E Ti mando un bacione adesso Dammi un secondino Dando un bacione Grazie davvero tanto 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 E Cazzo quanti ne hai L'hyp train si avvicina Ma come Un'altra persona deve abbonarsi Deve abbonarsi e regalare o usare i beat Attenzione Un'altra persona e poi c'è l'hyp train Wowie Grazie Fabio Grazie davvero tanto Ciao Talos buonasera Sono arrabbiato quindi spendo soldi Ma perché sei arrabbiato Maggio? Mi è caduta una monetina Puoi raccoglierla? Sei bello Grazie Maggio Hyp train Hai un tempo limitato Attenzione Sì Come? Perché hai detto Grazie Maggio Grazie di 100 bittini dell'eurino Piedini anime Niam Si mangia? Com'è? Ma cosa fai? Ma fermi tutti Grazie dei 50 bittini Dell'un bittino E dei 10 bittini Maledetto uomo Con le mani Belle Li metto Li metto Quando Quando riaprono un paio di cosette Vado e compro Promesso Muni Ah Ah Era 11-16 24 Speriamo Meno 24% Ragazzi 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 calma Ma perché mi state facendo un hype train? Spendete soldi No Impazziti Impazziti Dai ma che scam però Dai su 100 bittini erano abbastanza Signora hype train E dai Se oggi non finisci la no hit Niente Te la guf perché ti voglio bene Me la guf perché mi vuoi bene Aspettami un secondo ragazzi Che mi sono dimenticato di fare l'artistar setup Ma come Dark? Che succede? Ah E' vero Per il dente del giudizio Dark Sai che cosa fa? Una scimmia in un'autostrada Miaum Credo che più o meno sia quello che fa una scimmia in un'autostrada Ehm Vabbè ragazzi Comunque niente No F per la scimmia Torno a spendere su Gigi Ma come? Bastardo? Stavo rifacendo i miei overlay E sto pazzo mi regala la sub Hai visto? L'hai ringraziato il signor Fabio? Vabbè ragazzi Troppo gentili comunque Ti odio Mark Io ti vorrei succhiare tutto Ma com'è? Che succede? Certo che si Bravo buon uomo E' ora di fare la nostra magia Cioè di avere tanta fortuna Dai doniamo tutti No ragazzi no Non arriveremo al livello 2 Mi dispiace Sarebbe bello ma A livello 2 però Vengono regalate delle emoticon A Le persone che hanno partecipato Se non sbaglio E Viene regalato lo stemma Del capotreno A chi ha donato di più Sono piuttosto sicuro Che funzioni così Ma non mi ricordo Quindi Non prendete per vero Quello che vi sto dicendo Ma che fortuna Lane boy Ciao Google Scam balanca balululu Ah 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 Che succede? Avessi soldi Contribuirei Se non hai soldi Vuol dire che non devi Contribuire amico mio A parte per le tasse Se non hai soldi Devi contribuire lo stesso Per quelle purtroppo Brutta situa Dove sono gli altri? Che è successo qui? Muni grazie Lost Un boccione No no anche a livello 1 Sì anche se si entra a livello 1 Bechi pure lost Pog Muni spiega come si fa Che cosa? Fare il Fare lost Vai sul tuo canale Fai slash H-O-S-T Spazio E il nome Ma Amus Ma lo sai come si fa a fare host Scusami eh Fai ride Gesù Mark Il dolore che sto provando Mi dispiace Dark Io i miei denti del giudizio Non li ho mai dovuti togliere Sai? Eh mi sono usciti tutti e quattro Credo che siano quattro Quelli che devono uscire No? Uno sopra Uno sotto E c'è due sopra e due sotto Se non sbaglio Beh fortunato me Ho i denti storti G di un 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 trattore aereo spaziale Ma In ormaggio Potevi farlo durare un po' di più Il G di un G di un G di un G Io sono ancora indeciso Se voglio prendere le ossa del ritorno Da Oswald I denti E le mani storte I denti Le mani storte La schiena storta E ne ho ragazzi Chi più ne ha più ne metta Dobbiamo andare da qua Giusto adesso? Sì Dov'è ragazzi che volevo mettere l'anello Il Fapring? Cioè l'anello del favore? Ah la culla È vero Rimedio a quella Grazie Le mani storte Per quello che non fa il clon No ma ragazzi Ma non ho davvero le mani storte Cioè Un po' il mignolo Però le altre dita Sono piuttosto normali Il pene com'è? Il pene non è storto Grazie a Dio Ah già è vero Che adesso devo tirare la bombetta al tipo Cosa ne pensi del pene? Gnam Mark ma sei un monopolista? Figa Cucli Voglio uccidere Galvorn Lungo ma storto O corto ma dritto Io ho scoperto che ho un osso in più nel piede Come? Come scusa? No comunque Amos tu fa il clon Sono un monopolista a cui piacciono gli oligopoli Questa parola mi è nuova Oligopoli Eh eh oh Eh eh oh Eh eh oh Ah hue hue Ma che cazzo Belli mother mother hai visto? Sono veramente belli mother mother Però Conosco poche canzoni E tipo Quattro Ma che cosa dà il calcio? Ragazzi giusto per farvi un esempio delle cose sbagliate che dice Fextra Life Quel muschio è al 100% O uno o due sono al 100% Quindi Non ascoltate Fextra Life che dice No Ma quel muschio è tipo al 75% Non è vero un cazzo È al 100% Ciao Sekiro Ancora non mi è chiaro perché tu venga nel mio canale Sekiro Non ti voglio Comunque per rispondere alla domanda di Di Talos Sai che non saprei risponderti Davvero Se muori per il veleno rido Ma come? Ma devo Lo uso per mettermi l'anello della pietra rossa? Quello bianco e viola Eh Quello può darlo Ma È una percentuale minore Di probabilità Magari ti dimentichi Ma tu Tu sai vero Quante erano finito su questo Gioco di merda E adesso che l'ho detto Mi dimenticherò qualcosa di talmente stupido Da far ridere tutta la chat Ah non ho potenziato al più due il tridente Vabbè Upsi Ah Ecco Appunto Però questo Questo ecco Allora Questa dimenticanza È spiegabile per il fatto che Oh What the fuck È spiegabile per il fatto che non lo faccio in nessun'altra run Cioè questa è l'unica run dove potenzio al più due Un'arma Da Ricard Però ecco Diciamo che Anche se al più zero Non mi sta facendo schifo Oltre i denti al momento Non lo so Ditemi voi Se per voi questo qua è poco danno e vi fa schifo Bah potrei effettivamente potenziarla dopo Non mi serve niente potenziarlo prima Ah no però Eh no mi tocca passare da Ricard lo stesso Perché non ho nessun fabbro vicino Credo I think Andre bla 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 No Dovrei arrivare a Don Orlondo Quindi no Sì dobbiamo tornare giù da Ricard Che palle E certo sei abituato a tirare merda Esatto Come da te è richiesto G G Un G, D, D, D. Un G di un nano armato di ascia. Ok. Che flow, hai visto? Come fai all'inizio senza consumabili? Beh, è semplice. Grazie dei bittini, maggio. È semplice. Posso utilizzare pugni e consumabili fino a che non arrivo a prendere il tridente. Sta nelle regole internazionali. Comunque era quello fiorito. Si chiama rosso fiorito nonostante... Quello nano non me lo aspettavo. Neanch'io. Si chiama rosso fiorito quando in realtà è palesemente viola, ma è un errore di traduzione. E quindi sì, quello bianco e viola è il muschio rosso fiorito. Ciao Sibrizyk, buonasera. Partito tardissimo questo pronostico, ma che ha Twitch? Che cosa avete fatto partire? Quellag? Che ridere. Vabbè, lo facciamo valere per l'Iron Golem a sto punto. No, per Seaseless no, dai. Non avrete mica fatto un pronostico per Seaseless. Il momento in cui respira mi ammazza. Io non capisco perché si fermi. Non ha un senso logico. Ho fatto partire quella che mi è partito... What? Ah. Niente per un compagno. Mark, ieri hai seguito la live di Hob? No. Purtroppo no. Però mi hanno detto che è morto all'ultimo gioco su DS2. Tra l'altro dopo il persecutore dal tipo... Dalla mummia. È un testa di cazzo però, posso dirlo. Cioè se si mettessi a fare dei routing un pochino più consistenti invece di fare le cose a cazzo di cane, come fa sempre... L'avrebbe già finita sta nonna. E la prova vivente di quello che sto dicendo è Dobby Sama, che l'ha già finita, facendo delle run più consistenti. Discarica infinita. Es Jedi. Credo. Jedi? Jedi? Non lo so. Spero che sia una città Star Wars. Se non lo è, mi accontento. Benvenuto nella regione, grazie mille. Non lo so, è una rottura di palle. Gnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegne. E Andrea è morto. Non rompete. Se volete andiamo da Vamos. Qual è il pb? Proprio quello lì. Sapresti fare una run adesso coi piedi? Sì. Ho riportato sull'ascensore. Per l'amore del Gesù Cristo bambino. No hit Luigi il pugilista. Solo pugni? Ho anche riportato sull'ascensore. No, ma sono veramente testa di cazzo. Vabbè. Va bene. Ci sto. Accetto il mio destino di testa di minchi. Allora? Quanto sexy la clip. Mica drop. Perché c'ha i pugni nei piedi. C'ha che i pugni nelle mani, eh. Momento Abba. Yes. Alzo adesso, ragazzi. Non me ne frega niente. Noi tolni Cestus. Ragazzi, io vi vorrei far rendere conto di che cosa vorrebbe dire un nano hit solo coi Cestus. Cioè, niente range, poco danno, perché fai danno accumulativo coi Cestus, non fai danno a botta, diciamo. E bisogna prendere il tizzone grande e il tizzone gigante. Spero che voi vi rendiate conto. Markish, mi regali un sacchetto di alghe. Un sacchetto di alghe? Perché vuoi un sacchetto di alghe, Maggio? Ciao, pare. Buonasera. Se non è grande vuol dire demone capra, che non è un problema grosso. Ma quei... Demone capra? Sai cosa significa demone capra? È tutta una catena di merda. Demone capra significa dover fare girandola come uno dei primi boss. Capito? Girandola. Come uno dei primi boss. Sono tornati i bastardi. Raga, ma quante sub oggi? Ma siete veramente impazziti. Grazie. Grazie davvero, ragazzi. Grazie, Gabog. Sono tornati i bastardi? O bastardi, perché volevi dire sono tornato? Non lo so. In qualsiasi caso, grazie mille dell'are sub, Gabog. Quanti mesi? Nove mesi! Beh, Elite! Dai! Tu e Dark adesso dovete entrare il Behelite. Anche sbagliato. Adesso sia tu che Dark avete il Behelite. Dai. Sì, va bene, ok. Coi piedi, però. Tutto quello che hai detto, coi piedi, però. Ragazzi, quel Behelite tenetevelo stretto, che tra tre mesetti vi si apre. E poi potete realizzare tutti i vostri sogni. Mi raccomando. Avendo giocato con il solo pugnale me ne rendo conto? Sì, Bob, sì, forse tu te ne rendi conto. Però, devi pensare che devi fare tutto, devo fare tutto quello che hai fatto tu. No, hit. Run solo escrementi? Una run di merda, insomma. Che ridere! No, eh... Top 10 battute del 2021! Non credo sia fattibile, Pomodoro, perché non tutti i boss che devi affrontare sono vulnerabili alla tossicità. Però, avrei una mezza idea di fare una run solo consumabili. Ma non ditelo a nessuno! Ok? È il nostro piccolo segreto. Grazie di non farmi ridere, minore 3. Figurati. Non ci sto impegnando a fare delle battute di merda per Tedar. Run cosplay di Griffith cos'ha c'è a casca comprese? Eh, mi serve una casca, però. Perché senza farebbe un po' ridere. Cos'ha c'è a casca da solo? Uno di quei costumi, avete presente, dove c'è? Capac ZXV, casca in fa, lsdn, casl, df, lsd, fal, sum, clame, sd, lm, cactus. Cactus? Lm, cactus. E... E niente, avete presente quei costumi dove tipo c'è il cavallo davanti? Cioè, proprio il cavallo di tipo gonfiabile, no? Che sembra che stai andando a cavallo, però tu in realtà sei le zampe del cavallo. Avete presente di che cosa sto parlando, no? Cioè, che tu infili i piedi nelle zampe del cavallo e in realtà sembra che tu sia il fantino del cavallo. Ecco, possiamo fare una cosa del genere, però con casca davanti. Solo consumabili in fettrol? Ragazzi, a me piaceva tanto fare la fettrol, mi sarebbe tanto piaciuto... Sì, Mark. Sì, Mark, perfetto. Mi sarebbe piaciuto tanto fare la fettrol, ma... Adesso la vogliono fare tutti internazionalmente. Tutti. L'ho detto una volta, ho detto, dai ragazzi, faccio la run fettrol, l'ho detto nella chat di CBD. E mi è stato detto, Barker aveva idea di fare una run in fettrol e roba del genere. Fettrol, body shaming. E l'ha rautata, solo che ONS erano un problema gigante, si è annoiato e ha smesso. E io, vabbè, dai, io ci provo, inizio a rautarla e la faccio. Tutti la vogliono fare. Tutti. Il mondo conosciuto adesso la vuole fare. E allora io che cosa cazzo devo dire? Niente. Non la faccio più. Perché non mi piace la competizione. Cioè, se devo fare le cose per me stesso come achievement personale, lo faccio. Ma se devo fare la corsa con gli altri per chi finisce prima, ma va a fanculo. Cioè, piuttosto me ne sto per i cazzi miei, capito? E quindi niente, ragazzi. Forse la fettrol non la vedremo mai. Qualcuno voti no, non vincete nulla. Prendi hit e ti prendo a pugni, coi chestus. In realtà, il fatto della fettrol a un po' di persone probabilmente andrà a genio, perché tanta gente non la voleva vedere, in realtà. I moderatori possono partecipare, però no. Ma che vita fantastica. La no occhiali run è praticamente la vomitoran per me, perché in realtà a me non... Cioè, io ci vedo. Sarebbe una vomitoran no chat, perché non riesco a leggere la chat senza occhiali. E la cosa che mi dà più fastidio quando me li tolgo è la nausea. Quindi run in cui vomito mentre non leggo la chat. Se volete voi. Si può anche fare. Aggiornamenti di Twitch? Beh, immagino di sì. Posso partecipare, ma poi non possono scegliere... Ma poi non possono scegliere il risultato. Ma che cazzo vuol dire, ma... Bella sta freccia. Mi è piaciuta. Neanche un po' pericolosa, meno male. Run solo pitone? Quando vuoi. Mi sento turgido. Benissimo. Quindi prossima run in Fettrol. Ma no, ho appena detto che forse non la faccio perché c'è troppa competizione su quella run. Allora. Marco una domanda. Ho platinato Dark Souls 1. Iniziamo male. Arrivo. Marco una domanda. Platinato Dark Souls 1. Non so più che fare con quel PG. Ho usato glitche da duplicazione. Sono una brutta persona? No. Per certe cose io ti avrei detto di utilizzare il glitche da duplicazione anche per la platino. quindi... Cioè, a meno che non la vedessi come sfida, potevi farlo più che tranquillamente. Quindi no. Vai tranquillo. Spoiler, sì. Ma non è vero. Ah va, fancu. Ma che cazzo succede? What the fuck? È rotto sto golem? What? Bro! Va bene. Come rallentare una run di Markish? Tutorial by Iron Golem. Bastardo? Cane? Figlio della mignotta di tua mamma. In the dick? No. No, noi spariamo nel culetto. Io che l'ho presa come sfida. Il mio tempo. Dovevi chiedere, l'Iron Golem cadrà? Così qualcuno perdeva. Tanta gente perdeva. E una persona vinceva una quantità di soldi imbarazzante. Che due palle. Come far parte da tempo a Markish? Markish. Sbaglio al salto. Nessuno? Ma come nessuno, maggio? Hai annullato il pronostico? Ciao, come va? Va! Artorias non chiedermelo mai più. Comunque ciao. È venuto nella chattina. Come stai bell'uomo che è da tanto tempo che non ci vediamo? Mi sento scammato dei miei 17.080 punti. Ma, Alin, non... Te ne sarebbero arrivati... Vi sarebbero divisi... Vi sarebbero... Vi sarebbero stati divisi i punti. Marco, scusa. Come stai? Che avete vinto. Erano 10. Cioè, se avete votato in 20, vi sarebbero arrivati 0,5 punti a tutti. Che cazzo? Fottiti, Gabog. Vado a prendere Galvogidò? Split. Split. Caca, coglioni. Lo prendero in considerazione. Prendero? Prendilo. Amico caro, prendilo. Amico caro, prendilo, 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 prendilo. Tadu-tadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu-dadu. Sai com'è cagare un coglione? Mi scelta, e se fa pop? Ma che schifo. L'mao. Che fastidio quando vi si cambia il layout della tastiera in un'altra lingua ragazzi Porca puttana che fastidio Io vorrei disinstallare l'italiano dal mio sistema Perché tanto windows ce l'ho in inglese Lo uso in inglese Che cazzo me ne frega del layout italiano Cristo madonna Sta veramente bene col parkour da Norlondo Bah Se lo dice lei signor Amos io mi fido Non conosco Fabio E adesso tu mi dirai ma come e io ti dico Sono un uomo di cultura Ma che è sempre voglioso di averne altra nel suo repertorio di cultura Quindi Quando e se vorrai darmi qualche titolo Vorrei fare una bella battuta ma probabilmente Verrei bannato quindi evito Se hai così tanta Ehm Auto Com'è che si dice? Auto? Auto certificazione mi viene ma su serio Ma non era quello che volevo dire E così tanto autocontrollo diciamo così E' un uomo di cultura Cultura? Cultura batterica Sotto le ascelle Che schifo Ma guardate Hai mai pensato di essere un frigo? No però ho pensato che sto gargoyle ha rotto i coglioni Perché dovrei essere un frigo? Come dice White L'unica cosa che siamo Sono dei sacchetti di merda Siamo dei sacchettini di merda ragazzi Non siamo dei frigo Nohito NS No non puoi fare gli pronostici così però Perché nohito NS non vuol dire niente Un titolo un pochino più chiaro Perché altrimenti si confondono Ragiona Mi ha pensato di essere un frigo Ragiona Frigo No non mi è chiaro Autocertificazione è un termine attualissimo Ma che vaffanculo te Il cazzo di bombarolo pazzo Che sono Che bello avere quattro badge Sì in effetti è Molto soddisfacente Dark Vedo il tuo pene ed è gigante Marco in questo momento Ma no non è vero Sono solo concentrato ragazzi Perché è da un po' che non faccio questa sezione Capitemi Cristo Ai 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 che mal di schiena È normale avere mal di schiena dopo che si è andati per un po' in bicicletta dopo tanto tempo Credo di sì No io intendevo pelato Ma perché sono pelato What? Ma vai a cagare tazza Adesso ti credo Dove è esplosa quella bomba? You can dance Having a time of your life Marco fino a quattro mesi Ok Questo è più chiaro Ma per ONS si intende anche il percorso per arrivarci? No Solo il boss Se no ci viene scritto No hit Split di ONS Di solito quello è quello che dico di fare ai miei mods Hai finito? Madonna santa You can dance You can Having the time of your life SOS ESSO È quello Madonna santa Comunque no non credo Se vuoi l'aggiungo Madonna santa Ottimo commento amico mio Quindi se prendi hit qui si annulla il pronostico Esatto E non ha fatto il backstab Bravo amo Eh eh Damputiii Oh yeah You can dance Speriamo Nel 123RNG Allora Amus Era girato il cavaliere? Cioè si è girato quando ti sei avvicinato? Se si è perché non hai messo l'anello del drago dormiente Ragazzi se non vedete i pronostici basta ricaricare la pagina tecnicamente Detax Benvenuto nella regione Grazie mille del favore Gentilissimo Allora da te io devo comprare Due di queste E 200 frecce Non abbiamo ucciso la lucertola dal toro ragazzi Abbiamo un livello in meno del tridente Qualche hit in più Eh ragazzi ve l'ho detto che era da un po' che non runnavo Al massimo che volete che faccia L'andiamo a prendere dopo L'andiamo a prendere subito dopo Per l'anniversario oggi la sub scade domani Magabog io non vedo più il tuo simbolo C'è il tuo stemma Vabbè comunque È perché l'hai condiviso tu Cioè Devi condividerlo appena lo rinnovi Se non lo condividi te lo fa vedere la live dopo E se non lo condividi ancora te lo fa vedere quella dopo Finché non Non lo condividi E allora Ho capito che è bog Andiamo Dopo aggiungo SOS Ti prego un RNG buono Oh sì Cazzo sì No Cazzo no Cazzo sì Cazzo sì Cazzo sì Cazzo sì Cazzo sì Ti odio Ti odio un tot Ornstein Dai è così però Dai è così Corsettina campestre Dai è più veloce Mamina Dov'è What What the fuck What the fuck Ornesto Ornesto Lei si calmi Ornesto Ornesteino No bastardo Sei un cane Sei Veloce Prima del martello Bravo Va fanculo Va fanculo Va fanculo No Ornesto Non così Ornesto Non così Non capisco un cazzo Ornesto Ma come Ornesto Ornesto Sesso 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 Qualcuno ha detto Sesso 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 Un Due Tre Pavangu Pavangu Uno Uno Due Tre Maddio Sesso Sesso Nia 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 Ma quanta vita Scusa Ma 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 è la tua ora Smo Dai Per favore E Prendiamo L'altro Ascensore Prendiamo L'altro Ascensore Con proprio Tantissima Tranquillità I suoi suoni Sono sempre Più Ambigui Ah no I suoi Sono sempre Più Ambigui I suoni Immagino Credi di aver Azzeccato Il soggetto Addio Quarto Stemma Che è Successo La mia Gangbang Le è piaciuta Sì ma C'hai un culo Aperto Però Tu Gasby Scusami se Te lo dico Così No No Assolutamente No Ragazzi Queste cose Non si fanno Mi scuso Tanto Tanto Con la chat E' uscito Sì non so Scrivere Stasera Ma la hit Con la bomba Magari è una domanda Stupida Posso usare Sia le mani Quindi i pugni Che Le I consumabili In questa run Musica Arriva 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 Fatemi fare Un paio di conti Con i livelli E arriva Dovrebbe essere 16-16-40 Però Ovviamente Ho un livello In più Credo No era 10-16-16-40 10 Non so Era 10-16-40 Perfetto 10-16-40 Perfetto 10-16-40 Ci teletrasportiamo Al comune Dei non morti Perché ci andiamo A prendere La lucertolina E passiamo Da Rickert Prima di Fare le robe Perfetto 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 Grazie.